ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel. Quest'oggi nel telegiornale abbiamo ospite Pompeo Perretta che è il presidente dell'associazione San Sebastiano Martire e con lui parleremo di un evento importantissimo. Pensate, questa sera alle ore 19 direttamente dalla chiesa San Michele del Quadrivio organizza la tappa di campagna per divulgare il messaggio di San Sebastiano, questo santo molto importante, ma sentiamo direttamente dalla sua voce insomma quella che è l'organizzazione di questa iniziativa che ha fatto una serie di gemellaggi non ultimo ecco in questa situazione anche di covid a Santa Maria di Castellabate. Pensate, Pompeo ben trovato. Bene, grazie sempre Gianni anche per la tua attività di seguire la nostra iniziativa grazie a lei e ai telespettatori. Appunto come hai detto dopo la tappa di Santa Maria di Castellabate che ha seguito quella di Pesto nel Cilento, l'associazione San Sebastiano Martire prosegue il suo cammino sulla via di San Sebastiano che ci porterà nel 2023 nella Basilica Paleo Cristiana di Roma fuori le vute. La tappa di campagna è riservata alle comunità appunto nella chiesa di San Giuseppe e San Michele a Quadrivio di questa città di campagna. Abbiamo scelto questa diciamo località, una città ricca di storia per la storia che rappresenta la città di campagna, già sede vescovile dove praticamente avevamo fino al 1170 proprio il vescovo nella diocesi a sud della provincia di Salerno. Oggi accorpata, oggi diciamo inserita in quella che è la l'arcidoce di Salerno, campagna ed acerno. A campagna e nell'alto e medio seversi all'elto sello abbiamo coinvolto un po' e raggruppata la rappresentante delle istituzioni da condursi dall'alto selle, campagna, bellizi, battipaglia, eboli, serre perché neanche controlli, casteccivi da un po' di alburni per organizzare una tappa territoriale che segue da una parte segue quella di Santa Maria di Castellabate ma dall'altra precede un'altra tappa importante già in programma che ne diamo un piccolo annuncio sul quale poi ritorneremo nei prossimi giorni del del 5 giugno che si terrà nella zona di Fisciano e precisamente una chiesa di Lancusi nella zona, diciamo, del territorio universitario che raggruppa un po' quella Vale del Lido. Ma torniamo a campagna, qui praticamente abbiamo il patrocino e ringraziamo anche il sindaco della città di campagna, nella persona di Roberto Monaco, il comandante di Giorgio della Polizia Municipale che in primis hanno accettato e hanno, diciamo, condiviso questo percorso sul San Sebastiano. E in termini, anche in tempi di epidemia, mai come in questo momento, invocare un santo antico dal doppio martirio che da sempre è stato invocato per allontanare ogni forma di epidemia e di pestilenza delle comunità colpite, diciamo, ecco, che siamo qui per pregare, per diffondere il culto e per diffondere quelle che è stata anche la fede intorno al santo caduto sotto, diciamo, l'imperatore Diocleziano, martirizzato nel 20 gennaio del 304, il terzo secolo dopo Cristo, diciamo, durante le persecuzioni dei romani. Risiede, risiede, dobbiamo annunciare con orgoglio, anche, lo dico, con soddisfazione, dopo la tappa di San Demetico a Stella Bade, dove è sceso in campo il vescovo Spinillo, lei ha fatto anche questa intervista, qui presiede questa tappa, questa sera, Monsignor Pasquale Cascio, che è un vescovo che viene dalla chiesa serenitana degli Alburni, già parroco di Siciliano degli Alburni, è inserito in questa diocese di Gianna Policastro, è un pastore della chiesa di Sant'Agile dei Lombardi, che anche rappresenta una tappa importante, avendo anche ricevuto nei giorni scorsi la peste di socio, anche socio anorario della nostra associazione. Quindi presiede la cerimonia il vescovo Pasquale Cascio. Pompeo, ti volevo chiedere, naturalmente i nostri telespettatori sanno che San Sebastiano è il patrono dei vigili urbani, no? Sì, con un decreto di urbano ottavo nel 1957, San Sebastiano è patrono della polizia municipale in Italia, ed ecco perché noi ad ogni tappa, ad ogni iniziativa, invitiamo, certo, le istituzioni, perché rappresentano un po' anche un punto di riferimento territoriale, ma in Brims il comando è la polizia municipale del territorio. Qui, intorno anche a questa tappa, noi abbiamo appunto concordato, abbiamo addirittura organizzato in sinergia, se vogliamo, questa iniziativa con la polizia municipale del territorio dell'Alto e Mediosela, per ricordare il padrone della polizia municipale in Italia. Molto bene, allora io rinnovo l'appuntamento ai nostri telespettatori, questa sera alle ore 19 in diretta su Cilento Channel, canale 636, e sulla pagina Facebook sia di Cilento Channel che della parrocchia, insomma, del quadrivio di campagna, e sulla pagina dell'associazione potete seguire questo importante appuntamento. Pompeo, ti ringrazio, saluto anche Antonella Maria Sabatino, che è la responsabile del turismo religioso, perché poi dietro a questa iniziativa c'è una grande idea di turismo religioso, vero? Sì, abbiamo in cantiere un progetto praticamente che potrebbe essere l'unico in Italia dedicato a San Sebastiano che parte da questo culto e poi diciamo che la gruppa intorno riunisce, intorno al tema di San Sebastiano, tutte le chiese, la comunità, le conclaternite, che da tempo, in modo autonomo, ecco, diffondono il culto alla fede. Vogliamo mettere insieme anche per organizzare un evento, tempo permettendo, con il culto. Volevo anche, non per ultimo, ringraziare Don Antonio Rapone, il parroco della chiesa San Michele e San Giuseppe di Quadridia, Quadridio, che hanno aperto, che ha aperto le porte, senza bastiano indirettamente, ma anche a noi, che ne, diciamo, rappresentiamo questa piccola, modestissima, ma significativa associazione. Insieme a noi, naturalmente, anche in questa iniziativa, è presente la guida spirituale nella persona, che ora non mi dimentico, non frisco mai di ringraziare, di padre Saturno, un sacerdote redentorista da Santo Alfonso Medi Pagani, che, come tu hai avuto modi di riconoscere, è l'autore dell'inno a San Sebastiano, l'inno religioso, che anche qui sarà in veste, però, padre Saturno, di organista, di organista perché presiede, appunto, Sua Eccellenza il Vescovo Cascio. Quindi, perché abbiamo importunato ancora una volta Cilento Channel? Perché per dare la massima sicurezza alle istituzioni, al comando dei Carabinieri, alla Polizia Municipale, al Sindaco, noi non faremo assembramento, se non posti, diciamo, occupando solo posti a sedere distanziati, e arriveremo nelle case di tanti cittadini con la tua professione, la tua terremittente, con la tua televisione. Grazie per quello che fai. Grazie, grazie a voi, e collegati tutti alle ore 19. Arrivederci. Grazie. Grazie.